Assessori contro Vittoria deflagra infatti in città la spinosa vicenda del locale di proprietà dell'assessore Angelo Dezio che sarebbe stato pulito da personale della SAP, fatto questo che non è passato inosservata denso Cilia Di Selle il quale ha chiesto al sindaco Nicosia se tutto questo fosse legale. A mettere poi il carico da 5 ci ha pensato l'assessore Piero Gurrieri, tra l'altro con delega alla trasparenza il quale avrebbe consigliato, tra virgolette, allo stesso sindaco, stante la situazione venutose a creare di licenziare allo stesso Dezio e allo stesso collega di anticipare le decisioni di Nicosia rimettendosi prima dall'incarico. Per Gurrieri si tratta di una situazione obiettivamente insostenibile e che determina profondo disagio alimentando discredito sull'immagine dell'amministrazione comunale. Gurrieri chiede pertanto al primo cittadino di assumere le opportune iniziative eppur se è umanamente dispiaciuto della vicenda, l'assessore alla trasparenza ritiene che non sia possibile per nessuno, lui compreso, sottrarsi alle proprie responsabilità. Da qui al consiglio di Gurrieri al sindaco di dare il benservito a Dezio il passo è stato breve, il quale sindaco dovrà adesso decidere da farsi, entro c'è chi dice che il famoso rimpasto di cui si parla da mesi è ormai vicino a tradursi in realtà.